Previsioni per domenica 29 aprile. Cielo poco nuvoloso per nubi basse e sviluppo di cumuli durante le ore centrali della giornata. Nel primo pomeriggio rovesci e temporali sparse nelle zone interne e occasionali altrove. Temperature minime lievamento e massime stazionarie, venti a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso. Grazie a tutti.